Benvenuti a MeteoGiulianci.it. Oggi è venerdì 15 giugno, tempo bello soleggiato su quasi tutta l'Italia per il ritorno sulla penisola della calda alta pressione nordafricana. Calda perché favorirà da oggi un'intensa ondata di caldo che durerà una decina di giorni con apice del caldo tra il 18 e il 23 giugno. Ma vediamo la mappa del satellite delle ore 8 di questa mattina, vedete il sereno su tutta l'Italia, a parte un po' di nuvole sulla Sicilia. Andiamo allora a vedere il tempo che farà nella giornata odiana. Beh, direi il tempo evidente, tanti simboli di sole su tutta l'Italia, eccetto un po' di nuvole sulla Sicilia, nuvole che però peraltro saranno in uovo, ossia non porteranno piogge. Andiamo a vedere le temperature massime previste per oggi. Inizia il caldo, quindi inizia in sordina, non ci aspettiamo i 34-35 gradi, ma vedete già valori di 25-27 gradi sulle regioni di nord-ovest, valori che sono ancora di aria fresca diciamo, mentre già compaiono valori di 28-31 gradi sul resto della penisola. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buon giorno.